Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Sono Laura e oggi ti voglio parlare di una parte fondamentale se vuoi diventare un imprenditore online o un social media manager. Il giusto mindset. Che cos'è? L'impostazione mentale. Una cosa che può aiutarti molto è leggere. Ti consiglio come primissima cosa però di andarti a vedere l'audiolibro della legge di attrazione. Ti lascio link sotto al video. Un libro invece che mi sento di consigliarti è questo. Guarda. Chiedi e ti sarà dato. Un capolavoro che ti spiega che noi siamo energia e che viviamo in un universo fatto anch'esso di energia. Abbiamo una potentissima arma. È il pensiero. Non esistono solo il linguaggio verbale o quello fisico, ok? Ma esiste anche il pensiero. Con quello noi emaniamo energia che può essere positiva o negativa. In base a questo particolare attireremo verso di noi delle situazioni. In questo libro ti vengono riportati alcuni esempi di momenti nei quali ci siamo ritrovati tutti. Ti mostra come ci si sente di fronte a tali circostanze e ti spiega come cambiare i tuoi pensieri per migliorare queste fasi. È ovvio che nessuno è immune da condizioni spiacevoli. Non si tratta di magia. E non è nemmeno rilevante il presente perché è determinato dal nostro passato. Ciò che è stato è stato. Ma una volta presa consapevolezza di ciò che possiamo fare con la nostra mente possiamo cambiare il nostro futuro. Imparare a vedere sempre il lato positivo nelle cose ma anche nelle persone che incontriamo nel nostro cammino farà sì che noi generiamo dei pensieri quindi delle convinzioni positive. Quindi energia positiva, vibrazioni alte. Perché l'obiettivo è quello di far coincidere la vibrazione del tuo desiderio con quella della tua convinzione, quindi del tuo pensiero. Le emozioni sono energia. Se ci sentiamo tristi, frustrati, soli noterete come avvenimenti spiacevoli si susseguiranno nel tempo senza mai finire, anzi peggioreranno. Ma se impari ad allineare il tuo desiderio con il tuo pensiero ecco che attirerai verso di te quello che tu desideri. Ti faccio un esempio. Se il tuo desiderio è voglio un lavoro che mi dia più soddisfazione, ok? Però pensi. Quello che faccio non mi piace e tanto anche se mi mettessi a cercare non troverai altro perché i tempi sono critici. Questa convinzione è vibrazionalmente incompatibile con il tuo desiderio. Di conseguenza sarà impossibile che tu ottenga ciò che vuoi. Ma se per quello stesso desiderio pensi, di sicuro non sarà facile trovare un altro impiego, ma non è impossibile. E se mi metto a cercare, di sicuro qualcosa salterà fuori, qualcosa la trovo. Ecco che qui sei già più in linea con ciò che vuoi e per questo le cose miglioreranno. Ricorda che l'universo si muove in ogni caso, nel bene e nel male. Sei tu a determinare da che parte farlo muovere. Gli stadi di vita dipendono esclusivamente da te. Impara ad ascoltare il tuo io interiore, ok? La tua fonte e permetti alle cose che desideri di arrivare a te. Per questo video è tutto. Ti invito a lasciarmi un bel like se ti è piaciuto il video. Mi raccomando, iscriviti al canale per essere sempre aggiornato. Fammi sapere con un commento se sei interessato ad altri contenuti come questo. Io ti lascio sotto anche il link per l'acquisto di questo bellissimo libro, che ti ripeto, lo consiglio davvero a tutti. E ti abbraccio. Ciao da Laura.